Buonasera, noi siamo le brugole, io sono Roberta e lei è Anna Gaia. Io sono Anna Gaia, confermo. Questo microfono non consente una comunicazione estemporanea, però comunque la cosa importante è che siamo un duo comico, facciamo uno spettacolo di cabaret che proponeremo al Teatro Giuditta Pasta e prossimamente a Granara, al Festival di Spoleto Fringe, è già stato fatto all'ATIR e adesso sarà fatto all'Elfo nella prossima stagione dell'Elfo Puccini a Milano. Comunque veniamo tutti e due da Milano, abbiamo fatto la scuola Paolo Grassi e siamo diplomate lei nel 2009 e io nel 2010. Siamo due attrici e comunque abbiamo deciso di intraprendere un progetto che ci riguardasse più da vicino e che volesse rappresentarci di più perché parte direttamente da noi, da un'esigenza di voler comunicare qualcosa. Il progetto appunto si chiama Metafisica dell'amore, che è poi il titolo del nostro spettacolo, che ha vinto al Festival di Asti il premio Scintille, da cui abbiamo avuto una produzione e da lì diciamo che è nata un po' questa nostra tournée. Poi adesso magari Anna vi parlerà del progetto meglio perché così... Ecco, ti passo le olive che sono... Ecco, noi pasteggiamo olive in compagnia di queste signore amatissime. Lo spettacolo parla dell'amore, però in particolare parla dell'amore tra una donna e un'altra donna ed è uno spettacolo comico e diciamo che è il percorso con cui una persona comincia a scoprire l'amore e poi si ritrova dentro ai locali, poi si ritrova con la persona sbagliata, poi si ritrova con la persona giusta e poi si ritrova da solo ma a teatro con noi, con le brugole. E quindi vi invitiamo a venirci a vedere. Noi abbiamo Facebook dove ci sono segnate tutte le nostre date, saremo anche a Padova ad agosto, il 23 agosto e poi probabilmente saremo a Zelig la prossima stagione con alcune serate che poi abbiamo già fatto l'anno scorso e niente, quindi insomma ci stiamo continuando a girare, ma è una cosa nostra e quindi ci teniamo molto. Grazie. Grazie mille. Ciao ciao. Volete dire qualcosa? Sono bravissime, sono bravissime. Bellissime, bellissime. E al quarto mojito. Anche alla quarta replica. Grazie mille.